Le acque del Porto Canale saranno 21 le imbarcazioni delle marinerie dell'Adriatico che a Pescara domenica 4 settembre si sfideranno a Colpi di Remi in occasione della 27esima regata dei Gonfaloni. In gara ci saranno 12 squadre maschili e 9 femminili e ogni equipaggio sarà composto da 10 vogatori oltre un timoniere. La gara di domenica sarà seguita in diretta da Reteotto. Sabato 3 settembre la manifestazione aprirà i battenti con gli stand gastronomici della Sagra del Pesce, seguiranno lo spettacolo di teatro dialettale e racconti della vecchia Pescara e la pizzica Salentina. Il 4, dopo le premiazioni dei vincitori, a concludere la manifestazione sarà il concerto degli Outlet Band Revival 70-80-90. L'evento gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo ed è stato presentato alla stampa dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore allo sport Patrizia Martelli e dall'organizzatore della regata e presidente dell'associazione Il Maestrale Fabrizio Verzulli, figlio di Giovanni che è stato l'ideatore della manifestazione nata nel 1995. La gara maschile si sviluppa in un miglio marino, sarebbe fanno due giri di boa, poi c'è quella femminile che fanno solo un giro di boa, fanno mezzo miglio marino e si fa a tempi, il miglior tempo si fa in finale, semifinale. Una manifestazione che è nata grazie a suo padre, quale eredità ha lasciato tutte le marinerie che vogliono partecipare a questo evento? Rispetto, rispetto, amicizia con le altre marinerie e questo ha lasciato mio padre, se non saremmo arrivati a 27 anni, perché la gente vuole tornare a fare sempre questa gara di Pescara, che è stata la prima, adesso fanno anche altre regate, altri porti, però la prima è stata Pescara.